buongiorno a tutti e bentrovati a questo secondo video tutorial sulle gps sull'aggiornamento delle gradatorie per le supplenze 2024 2026 vediamo come accedere al sistema per fare la domanda e come inserirla e poi come modificarla eventualmente andiamo con nell'area riservata del sito del ministero dell'istruzione del merito si entra con la propria login dello speed e si entra all'interno una volta entrati all'interno si va su servizi i propri servizi e sulle istanze online una volta entrate sulle stanze online vedete si può accedere direttamente da qui sulle gradatorie provinciali per le supplenze si clicca qui e troviamo il modello di presentazione della domanda potremmo trovare una domanda già inserita se è stata già inserita in un primo momento e dunque modificarla oppure potremmo trovare la domanda non inserita e nel caso sia non inserita si consiglia di guardare il primo video tutorial che abbiamo fatto sulle gps 2024 2026 per vedere come inserire la domanda in questo caso ce l'abbiamo già inserita basta solo modificare la domanda si parte proprio da una modifica che potrebbe essere anche quella della scelta della provincia che se una volta inserita la domanda ci si fosse pentiti della scelta della provincia da questo menu a tendina si può scegliere una provincia differente nel caso nostro lasciamo la provincia già scelta e facciamo avanti facendo avanti entreremo in un in una pagina dove ci sono tutti i dati anagrafici dell'aspirante dalla pagina con i dati anagrafici dell'aspirante possiamo fare ancora avanti ed entriamo nel modello di presentazione la domanda la prima sezione che va compilata è quella obbligatoria che la scelta della gradatoria di interesse dunque la fascia e il titolo di accesso andando alle azioni disponibili e facendo accedi si entra su questa situazione qui ora nel caso nostro avevamo già inserito per simulare una certa gradatoria la eliminiamo e facciamo e dunque facciamo elimina dal sistema di quella gradatoria che avevamo già inserito e andiamo a vedere come invece si inserisce effettivamente una gradatoria facciamo aggiungi gradatoria su aggiungi gradatoria abbiamo la tipologia della gradatoria abbiamo dieci tab che qui vedete elencati non in ordine crescente abbiamo un tab 1 che per chi si deve inserire in prima fascia della scuola dell'infanzia primaria il tab 2 invece nella seconda fascia per le supplenze della gradatoria diciamo per le supplenze provinciali e scuola infanzia primaria qui ci si possono inserire solamente quegli aspiranti che hanno almeno sono almeno iscritti almeno al terzo anno di scienze della formazione primaria hanno già conseguito almeno 150 cfu il tab 3 è riferito alla scuola secondaria di primo e secondo grado prima fascia il tab 4 alla scuola secondaria di primo e secondo grado seconda fascia tab 5 la prima fascia degli tp cioè sempre la scuola secondaria di primo e secondo grado ma la tipologia è per gli insegnanti tecnico pratici abilitati che vanno in prima fascia invece semplicemente diplomati senza abilitazione itp seconda fascia devono compilare il tab 6 mentre il tab 7 lo compilano i docenti di sostegno che hanno una specializzazione non la stanno conseguendo nel caso ancora non conseguita si iscriveranno in prima fascia con riserva il tab 8 è sempre sul sostegno per chi non possiede la specializzazione ma almeno tre anni di servizio prestati in quell'ordine in quel grado di istruzione sul sostegno il tab 9 e il tab 10 invece riferito al personale educativo vediamo per esempio come si inserisce una prima fascia di sostegno con riserva si clicca qui si va a scegliere fra le quattro opzioni di dell'ordine di istruzione immaginiamo per esempio un sostegno di secondario e secondo grado e si aprono diciamo le i titoli per cui si concorre allora chi ha titolo già conseguito chiaramente potrà dire di avere il titolo di specializzazione sul sostegno indicarlo e indicarne poi il voto l'istituzione universitaria dove lo ha conseguito e tutte le richieste del caso chi lo deve ancora conseguire perché sta completando il tfa ottavo ciclo dovrà dichiarare quest'ultima opzione e dire che scioglierà la riserva scioglierà la riserva entro il 30 di giugno dunque farà questa opzione e scioglierà la riserva e potrà tranquillamente inserirsi e comparirà una gradatoria inclusa con riserva poi magari si potrà includere in qualche classe di concorso vediamo per esempio di aggiungere una nuova gradatoria dove per esempio un tab 4 rispetto a una laurea di in proprio possesso per esempio italiano e latino e dunque di poter conseguire di poter inserirsi attraverso una laurea che può essere una laurea di vecchio ordinamento piuttosto che magistrale specialistica indicando dunque questa opzione e dando i dati del titolo di studio diciamo laurea in lettere classiche e dire per esempio che è stata conseguita in una certa data di riferimento che può essere anche lontana nel tempo non necessariamente deve essere una laurea di recente istituzione immaginiamo per esempio di prendere una laurea che risalga a anni tipo il 1999 ecco il luglio 99 22 luglio 99 istituzione presso cui ha conseguito università degli studi di essina e per cui dovrà anche dire con quale votazione ha conseguito la laurea per esempio 108 su 110 e dunque avere questo e poi proseguire indicando se c'è un titolo congiunto di dare il titolo congiunto se non si fa un semplice inserisci e la a 0 11 è stata inserita con successo ecco questo serve per dire come inserire chiaramente ci sono tante varianti tante situazioni particolari per cui questo è semplicemente un tutorial volto a dare un'indicazione seguiteci nei nostri canali facebook nei social come youtube nelle nostre dirette perché daremo risposta risposta anche casi particolari seguiteci nei nostri articoli perché da qui ai prossimi 21 giorni faremo tantissimi articoli di informazione specifica sulla compilazione della domanda un grazie e al prossimo video tutorial arrivederci un grazie a tutti